Buongiorno, sono Fa Forrest Gump. Vuole un cioccolatino? Sai fare di meglio? Partecipa come concorrente a Bulli e Puppe's Got Talent. Per informazioni scrivi un sms whatsapp al numero 320 22 45 117 o invia un email a info-occhiopavese.it Bulli e Puppe's Got Talent, tutti giovedì dalle 22.30 a Libari Caffè.